no no giù no giù 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 no basta giù no giù no giù giù è giù quando ci troviamo davanti a questo problema il cane che ci salta addosso è dovuto al fatto che da quando sono piccoli piccoli e pesano 5 grammi ci appoggiano le zampine sul ginocchio a questa altezza più o meno e noi stiamo lì a fargli tutte le coccole del caso no così noi stiamo premiando il fatto di saltarci addosso non ce ne accorgiamo perché il cane pesa poco in questa fase perché un cucciolino piccolo ma poi questa abitudine una volta radicata nella sua testa quando il cane sarà più grande ci darà sicuramente dei problemi splash vieni e fare le tue conoscenze da solito siamo quasi tutti dicevo quando il cane crescerà diventerà un problema innanzitutto dobbiamo avere chiaro che il cane è molto difficile che contestualizzi generalmente tende alla generalizzazione se apprende un comportamento la tendenza è quella di riproporlo in svariati contesti piuttosto che contestualizzarlo lì può avvenire anche questo ma sta a noi ad esempio se io dico a loro Artax vieni qui di salire loro salgono ma fanno anche di più vai giù ok a comando ma se io faccio faccio così e mi agito lui non mi salta addosso ok glielo ho messo a comando quindi lui capisce che quando io gli do l'ordine è ok giocare in questo modo è un gioco come la bio eh io glielo ho messo a comando però quando si fanno queste cose bisogna appunto stare attenti a fargli contestualizzare bene il concetto quindi state molto attenti quando loro prendono l'iniziativa di saltarvi addosso di loro iniziativa è da lì che parte il discorso quando il nostro cane da piccolo ci salta addosso e noi gli facciamo le coccole lo stiamo premiando se abbiamo chiaro il concetto del premiare con l'attenzione dobbiamo arrivare alla conclusione che premiarlo con la nostra attenzione quando lui ci salta addosso anche per sgridarlo anche quello è un premio è un rinforzo vieni di qui seduto stater flash vieni di qua che mi tolgono la messa a fuoco vieni qui sei qui siamo a fuoco come dicevo sgridarlo è una forma di attenzione quindi per loro è una sorta di premio è una sorta di rinforzo il rinforzo è quella cosa che fissa i comportamenti se io lo rinforzo anche semplicemente guardandolo e dicendogli no giù lui non capisce il senso compiuto del no giù lui capisce che c'è un'interazione un gioco di lotta e a loro piace questa cosa e questo è il motivo per cui il tuo cane non smette di saltarti addosso perché tu lo sgridi lo rimproveri comunque interagisci con lui invece la cosa da fare è questa che ti faccio vedere facciamo conto che splash mi stia saltando addosso vieni qui flash tu vai via dietro splash salta qua ok io mi giro lo faccio cadere e quando è giù a quel punto gli dico bravo e gli faccio un lancio di palla tu stai fermo posso anche dargli un pezzettino di cibo un premietto in cibo oppure anche semplicemente dargli l'attenzione quando lui poi alla fine è giù è importante che gli date l'alternativa quindi se lui salta addosso niente interazione mi giro lo faccio cadere mi muovo piano e lo schivo ok quando però si mette giù è importante fargli capire che è stato bravo quindi quando poi è giù gli dico a quel punto giù bravo premio e lui sta giù ok quindi l'errore principale è che tu da piccolo hai il cucciolino che ti salta sulle sul ginocchio tu sei fermo sei isterico vieni di qua la cosa che insegna al cane a saltare addosso è che quando è piccolo voi non ci fate caso ma vi appoggia le zampine tu qua e voi non ci fate caso e quindi lo interagite ecco l'interazione è il premio per il comportamento poi quando questo comportamento inizia a diventare un problema inizia le sgridate i noi giù eccetera eccetera che non servono a niente perché fai così da mesi da anni e non hai ottenuto risultato perché il cane non bisogna sgridarlo educare non significa sgridare facciamo un esempio con artax vieni diciamo che lui mi salta addosso e gli fai no no giù giù ok lui lo sa già lui mi salta addosso io faccio così mi giro interrompo proprio il contatto visivo quando è giù bravo ok lascia passa tu vuoi fare un lancetto pure tu flash che ci sento bravissimo adesso gli ho insegnato è salito su perché glielo ho fatto fare per due ore però se mi muovo lui non salta no vero flash che se mi muovo tu non salti lascia splash corri giù giù giù